E già amici, tutto su YouTube fa due anni e siamo a 10.000 iscritti, ho già lanciato dei fiori sui social per ringraziarvi tutti quanti, ma se vi sono sfuggiti, ecco di nuovo dei fiori per voi. Vi ringrazio per avermi aiutato a far crescere questo canale, per sopportare anche video lunghi 20 minuti, per accogliermi ogni volta con affetto anche se sparisco per due mesi oppure se vi rispondo ad un commento dopo tantissimo tempo. Vi ringrazio per avermi fatto delle parodie che mi hanno fatto divertire tantissimo. YouTube cambia in continuazione, nuove funzionalità, nuovi strumenti, nuovi problemi, nuovi bug, ma tutte queste cose hanno senso soltanto perché posso condividerle con voi. E un grazie speciale a quelli di voi che ogni volta che pubblico un video mi lasciano subito un commento, anche soltanto un ciao, perché è importantissimo, perché appena che uno pubblica un video non sa mai se questo video piacerà o non piacerà. Ed il fatto di ricevere subito dei commenti mi incoraggia tantissimo, veramente grazie. Magari presto per festeggiare facciamo una live tutti insieme, però prima devo trovare un moderatore che mi aiuti, perché altrimenti da sola, lo sapete, per gestire le live non sono brava, faccio casini. Cominciamo il video parlando di ottimizzazione, infatti YouTube ha fatto delle dichiarazioni davvero importanti sui fattori di ranking, i fattori che determinano il posizionamento del video all'interno della piattaforma, sia nei risultati di ricerca che nei correlati che nei consigliati. La prima cosa è che i metadati, che sono cioè il titolo, la descrizione e i tag che noi inseriamo per i nostri video, sono importanti, ma soltanto se c'è un buon tempo di visione, ovvero se il video viene guardato dagli spettatori per un lungo tempo e non viene abbandonato dopo pochi minuti o addirittura dopo pochi secondi. Ma questa dell'importanza del tempo di visione lo sapevamo già, lo sapevamo già. Quindi va bene inserire le parole chiave, sceglierle con cura, ma questo non basta per ottenere un buon posizionamento del nostro video. La fase di ottimizzazione deve cominciare già dalla ripresa e dall'editing del video. Dobbiamo togliere le parti superflue, quelle noiose, quei punti morti dove non diciamo nulla o facciamo eeeh. Dobbiamo fare un editing avvincente affinché le persone non abbandonino il nostro video. Perché YouTube tiene in forte considerazione questo tempo di visione per determinare la qualità del video. I metadati saranno importanti nella prima fase del video per dire a YouTube di cosa tratta il nostro argomento, ma poi sarà il tempo di visione a determinare il posizionamento. Attenzione però, perché fare video più brevi non vi aiuterà ad avere performance migliori in termini di tempo di visione. Uno potrebbe pensare che se faccio il video più corto le persone lo vedano dall'inizio alla fine. Questo non aiuterà perché in realtà non è soltanto il tempo di visione ad influire, ma YouTube tiene conto anche della durata della sessione di visualizzazione. Che cosa significa? Significa che saranno favoriti quei video che riusciranno a far guardare allo spettatore più video in sequenza. Questo perché YouTube vuole che le persone passino più tempo possibile su YouTube. Allora benvengano le playlist che permettono di far vedere più video in sequenza allo spettatore, benvengano le cartoline finali, quei rimandi ad altri video del nostro canale che mettiamo alla fine del video per suggerire agli spettatori di vedere altri video. In questo modo andiamo ad aumentare la durata di una sessione di visualizzazione e questo favorirà il posizionamento dei nostri video. E adesso passiamo ad un argomento che so che vi sta particolarmente a cuore. Come vengono selezionati i video che vengono mostrati nella sezione che cosa guardare? La sezione che cosa guardare sarebbe praticamente la home di YouTube. Prima, fino a circa due anni fa, questi video venivano mostrati in base all'ordine cronologico, quindi vedevamo tutti i video dei canali ai quali eravamo iscritti, però presentati in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio. Oggi la home di YouTube ci presenta dei contenuti un po' più variegati, non ci presenta soltanto i contenuti dei canali ai quali siamo iscritti, ma ad esempio ci consiglia canali e video che potrebbero piacerci. E non ce li ordina in base alla cronologia, ma in base a quello che abbiamo fatto noi sulla piattaforma, cioè in base alle nostre interazioni più recenti e più frequenti. Un po' come avviene anche su altri social network, ad esempio Facebook. Questo fa sì che a volte ci si lamenti del fatto che nella propria home non ci sono tutti i video dei canali ai quali siamo iscritti. Per vedere tutti i video dei canali ai quali siamo iscritti, ordinati secondo la cronologia di caricamento, dobbiamo andare nella scheda le mie iscrizioni. Ma nella scheda che cosa guardare invece YouTube sceglie un po' lui che cosa mostrarci in base quindi alle nostre interazioni. Questa è una cosa che si diceva già da un po', ma in queste dichiarazioni che YouTube ha fatto recentemente lo mette nero su bianco. Io poi vi linko un articolo del mio blog in cui tratto nello specifico tutte queste dichiarazioni potete trovare tante altre informazioni sul posizionamento del video. Comunque YouTube ci dice che anche quando facciamo un commento, mettiamo un mi piace, condividiamo un video, questo contribuisce a far comparire il nostro canale nel feed degli iscritti. Quindi ci sta dicendo che i feed sono importanti, però aspettate. Qui si può aprire una bella parentesi. Io so che i feed sono un argomento molto caro agli YouTuber e che dividono la community in quelli che sostengono che i feed sono importanti e quindi vanno lasciati aperti e quelli invece che dicono che tanto i feed non influiscono su quella che è la popolarità, la visibilità di un video e quindi mantengono privati il mi piace e l'aggiunta alle playlist. Sicuramente i feed sono importanti ed aiutano a scoprire dei nuovi contenuti, però bisogna fare una precisazione. Non è che se un canale che ha 100.000 iscritti mette mi piace a un video, allora i suoi 100.000 iscritti nel loro streaming, nella loro sezione che cosa guardare, vedranno tutti e 100.000 il mi piace che ha messo questo canale. No, lo vedranno soltanto quegli iscritti che interagiscono spesso oppure hanno interagito recentemente con quel canale oppure con i feed di quel canale. Un'altra notizia SEO di cui voglio parlarvi riguarda i tag. In alcuni dei miei video in passato vi avevo detto che era importante mettere i tag più pertinenti all'inizio e quelli più generici alla fine. YouTube adesso ci dice che fare questa cosa non è più importante e che cambiando l'ordine dei tag il risultato non cambia, quindi il valore di una determinata parola chiave sarà lo stesso sia se inserita come primo tag che come ultimo tag. Almeno adesso non dovremo più preoccuparci del fatto che nell'editor dei tag di YouTube non si può cambiare l'ordine delle parole che abbiamo messo. Ecco, una preoccupazione in meno, quindi adesso sentitevi liberi quando mettete i tag di non seguire un ordine poi tanto studiato ma li potete mettere anche un po' a casaccio. Parlando sempre di tag, ho una brutta notizia da darvi. Lo strumento per le parole chiave di YouTube, quello ufficiale, è stato dismesso. E ecco che io devo riaggiornare tutti quanti i miei video vecchi. Siate comprensivi con me se ogni tanto vi capita di trovare in qualche mio video qualche strumento che non esiste più. Dopo KeywordBuds, che è un altro strumento che vi avevo consigliato, anche il Keyword Tool di YouTube ci ha lasciato. Però ha un altro strumento da segnalarvi. Si chiama KeywordTool.io. Per fare la ricerca dei tag per YouTube dovete scrivere KeywordTool.to.com Comunque lo vedete dalla piattaforma, cliccate su YouTube, inserite una parola che descrive un vostro video e lui vi darà dei suggerimenti. A me piace questo strumento, però insomma vi invito a provarlo, a testarlo per vedere se può andar bene anche per voi. Ovviamente ricordatevi che i suggerimenti che vi dà non riguardano soltanto delle parole che possiamo utilizzare come tag, ma anche come titolo e anche inserirle nella descrizione. Di tutti gli strumenti e le notizie di cui vi parlo vi ricordo che vi lascio sempre il link in descrizione. Finora abbiamo parlato di troppe cose tecniche, vero? Impararle tutte diventa veramente un lavoro, siete d'accordo? Ma soprattutto pensate che YouTube possa essere, possa rappresentare veramente un lavoro? Sicuramente per alcuni canali YouTube può essere un lavoro, ma per la maggior parte dei canali i guadagni che si fanno con la partnership non sono sufficienti per il sostentamento del canale dello YouTuber. Dopo la possibilità di fare dei canali a pagamento, ecco che arriva Fan Funding, uno strumento che ci permette di fare delle donazioni dirette ai canali che ci piacciono di più, ai nostri YouTube preferiti. È uno strumento simile a Tip Jar di Vimeo, che esiste già da un bel pezzo, quindi in realtà YouTube non ha inventato niente di nuovo, però finalmente lo ha implementato sulla propria piattaforma. Per adesso, da settembre, è disponibile soltanto in alcuni paesi. È disponibile in USA, in Messico, in Australia e in Giappone. Non sappiamo ancora quando sarà attiva in Italia, ma per adesso provo a spiegarvi molto velocemente il funzionamento. Innanzitutto non si viene abilitati automaticamente, ma bisogna fare richiesta tramite un form che vi linko in descrizione. Quando un canale è abilitato, ci sarà un pulsante sotto al video che permette al fan e all'iscritto di fare la donazione e potrà donare da pochi dollari fino a 500 dollari, cioè un massimo, un tetto massimo di 500 dollari, che sono un sacco di soldi. Però attenzione perché non possono essere rimborsati, quindi una volta che avete fatto la donazione allo YouTuber, poi anche se questo vi delude, non è che potete avere soldi indietro, però insomma questo mi sembra anche giusto. Per i pagamenti, per fare questa donazione, bisogna avere attivo un account di Google Wallet. Google Wallet è praticamente il Paypal di Google e Google prenderà una percentuale sui guadagni. Prende sia una fee per i costi di transazione, che è molto bassa e questo mi sembra giusto. Però oltre a questa fee, prende anche il 5% del valore della donazione, almeno nei paesi in cui adesso è attiva sta funzionando così. Secondo me questo 5% sulla donazione è molto discutibile. Voi cosa ne pensate? In fondo questo strumento dovrebbe essere pensato per aiutare i creativi di YouTube, non per aiutare YouTube a fare sempre maggiori guadagni, perché alla fine 5% qui, 5% lì, secondo me sono un bel po' di soldini. Però insomma lascio a voi la sentenza, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Ah, dimenticavo di dirvi che nel momento in cui fate la donazione potete lasciare un messaggio. Se lasciate questo messaggio sotto il video del canale a cui avete donato dei soldi, praticamente accanto al vostro avatar ci sarà un'iconcina, un badge, che vi identificherà come donatori di quel canale. Si tratta di un cuoricino in un cerchio, romantico, non lo so. Anche di questa cosa sono curiosa di sentire che cosa ne pensate. Io, se voi avete il badge o no, vi considero tutti quanti amici, non vi preoccupate. Nella descrizione vi linko due articoli molto completi che parlano di questa nuova funzionalità. Io ho fatto la richiesta per questa funzionalità, perché voglio vederla, voglio provarla e probabilmente se mi accetteranno la implementerò. Ma nel frattempo, se volete fare qualcosa di carino per me, potete creare delle simpatiche gif partendo dai miei video di YouTube, prendendo ad esempio le mie smorfie più antipatiche o più simpatiche, insomma, e confido nella vostra creatività. Lo potete fare con un servizio che si chiama GIF YouTube ed è molto molto semplice da utilizzare. Praticamente basta che andate sul video di YouTube dal quale volete estrarre la gif. Nell'URL, quindi andate nella barra dell'URL, modificate e aggiungete gif davanti youtube.com. A quel punto verrete reindirizzati sul sito di questo servizio che vi mostrerà già il video che voi avete selezionato e potrete decidere i secondi del video dai quali estrarre la gif. È veramente divertente, si possono fare delle cose esilaranti, ma anche delle cose per promuovere il nostro canale. Per esempio, se volete ricordare a chi vi segue sui social che possono guardare un vostro video, potreste estrarne un pezzettino e dire guarda questo nuovo video e mettere il link nel post. Però la gif contribuirà ad attirare l'attenzione, oppure potete creare dei simpatici meme. Purtroppo le gif su Facebook non funzionano, quindi per adesso vi dovete accontentare di postarle soltanto su Google Plus o su Twitter. YouTube quest'estate è cambiato moltissimo, come al suo solito ogni agosto ci presenta tantissime novità. Praticamente tante cose sia dentro che fuori l'account sono cambiate. Piano piano parleremo di tutte queste cose, ma oggi cominceremo con le novità sulle playlist, che secondo me sono veramente fighe. Vi ricordate che prima potevamo creare delle playlist come una sezione della home page del nostro canale YouTube, semplicemente a partire dai tag. Questo significa che potevamo dire a YouTube che ogni video che contiene questo tag va in questa playlist in automatico. Poi era stata tolta questa feature e, insomma, meno a me dispiaceva, perché permetteva di risparmiare tantissimo tempo. Adesso queste possibilità sono state reintrodotte, ma secondo me sono ancora più funzionali, perché praticamente possiamo creare delle regole per le singole playlist che non riguardano soltanto i tag. Possiamo dire a YouTube che ogni video che contiene questo tag aggiungilo a questa playlist, ma anche dire che ogni video che nel titolo ha questa parola aggiungimelo in automatico a questa playlist. Io trovo che per i pigri o per gli smemorati come me questa cosa sia strautile. Inoltre possiamo decidere anche l'ordinamento della playlist, ovvero in come vengono ordinati i video, se cronologicamente o no. Io trovo che questa possibilità sia utilissima, per esempio, per chi ha un format e fa una playlist su quel format lì. Prima che cosa succedeva? Aggiungendo l'ultimo video alla playlist del format, questo che doveva essere il primo video della playlist perché il più recente invece veniva messo come ultimo. Adesso possiamo invece ordinare la playlist e dire che deve essere ordinata in ordine cronologico, quindi l'ultimo video che mettiamo sarà il primo della playlist, così come dovrebbe essere quando facciamo una playlist su un format o su una raccolta di tutorial o una raccolta su qualche argomento particolare che facciamo. Mettiamo quello più recente all'inizio e man mano quelli più vecchi. Poi sono cambiati anche i pulsanti di condivisione qui sotto al video e i pulsanti di mi piace e non mi piace. Questo all'inizio ha creato un po' di casino, lo so perché me l'avete scritto sui social che non si trovava più dove mettere mi piace e non mi piace. Io spero che adesso vi siete abituati e se vi siete abituati fatemelo vedere con un bel mi piace su questo video. Però insomma volevo sapere che cosa ne pensate di questo cambiamento del player, il player è un po' più grande, i tasti di condivisione sono un po' più nascosti? Fatemi sapere la vostra opinione su questi e gli altri cambiamenti di YouTube. Ma YouTube non ci incasina soltanto la vita, a volte fa anche qualcosa di buono. Tipo adesso sto organizzando dei webinar gratuiti sulle tecniche video, dalla ripresa all'editing eccetera eccetera. Ci sono già state due lezioni e mercoledì prossimo ci sarà la terza lezione sulla cinematografia. Se mi seguite sui social, mercoledì prossimo ve lo ricordo e vi posto il link dove seguire la nuova lezione. Sinceramente delle due lezioni che ci sono state io ci ho capito ben poco, ma come sapete io non è che sono bravissima con la ripresa o con le luci, però erano abbastanza difficiline da capire. Diciamo che comunque se volete fare un corso avanzato sulla ripresa sulle luci questo può essere un inizio. Ma sempre sul videomaking ho un'altra risorsa da segnalarvi, si tratta del portale videomakingitalia.it che è stato ideato da Sliding Theory, quindi già è una garanzia di qualità. Io vi lascio il link e vi invito a visitarlo perché ci sono anche delle sezioni molto interessanti come il forum dove potete fare delle domande e la sezione tutorial dove potete vedere concretamente come si fanno determinate cose legate al videomaking. Noi ci vediamo giovedì prossimo alle 18 con nuove novità su YouTube. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun video e seguitemi sui social perché durante la settimana posto altre notizie interessanti che magari non tratto nei video. Vi ricordo di lasciarmi le vostre domande nei commenti perché vi risponderò e alle domande più interessanti risponderò con un video. Quindi suggeritemi anche dei argomenti sui quali vorreste che io facessi i prossimi video. Di tutte le cose che vi ho parlato vi ricordo che vi lascio il link in descrizione e vi auguro un buon weekend e vi aspetto giovedì prossimo con il nuovo video. Ciao!